buonasera buonasera a tutti buonasera chantal e benvenuti a questo quinto appuntamento della rubrica di chantal destino o libero arbitrio questa sarà sicuramente una serata molto intensa come come le altre poi tra l'altro perché effettivamente ogni ogni serata a mio avviso chantal è stata davvero molto esaustiva ma soprattutto ha dato a tutti noi degli strumenti importanti per affrontare questo momento storico davvero particolare e questa sera appunto affrontiamo destino e libero arbitrio e credo che sia davvero importante visto che molti di coloro che si che ti seguono chiaramente attraverso le pagine social e non solo hanno fatto diverse domande in merito in merito a questo argomento perciò abbiamo intitolato questa serata appunto destino libero arbitrio proprio perché c'è bisogno di avere sicuramente molte più informazioni e risposte e quindi chi meglio di te chantal può davvero aiutarci in questo in questo chiarimento perciò una delle prime domande che che mi piacerebbe farti ovviamente in merito appunto all'incarnazione ci piacerebbe comprendere meglio perché ci sono delle anime che nascono con degli handicap invalidanti o comunque piuttosto importanti e qual è il senso di queste vite ok beh ti ringrazio per l'introduzione mi sembra di arrivare sul tappeto rosso questa sera grazie Luca ma lo sai ormai mi conosci non mi ritengo un'esperta io sono proprio una comune mortale e quindi ecco condivido il mio pensiero quindi anche questa sera rispondo come meglio posso fare allora effettivamente è una domanda che mi arriva spesso no il perché di vite che possono apparirci sono domande molto difficili come come degli handicap come la cecità la sordità sono domande che mi sono state fatte spesso e dal punto di vista nostro della personalità ovvio che si guardano certe situazioni e si dicono sono ingiuste punto e basta c'è sofferenza perché mai un'anima o il divino dovrebbe volere questo per il nostro bene no è difficile per la mente razionale trovare il bello in ciò che apparentemente non ne ha questa un po la nostra sfida è proprio è proprio riappropriarci degli occhi dello sguardo della nostra anima perché la pensa in modo ben diverso da come noi pensiamo le cose qui no da 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 svegli sulle sul pianeta terra quando dormiamo e siamo in altre dimensioni ci ricci incontriamo la pensiamo in modo molto diverso io sempre di più e mi sembra di averlo scritto in un post tempo fa sempre di più di notte si lavora davvero c'è un lavoro incredibile dove tutti noi stiamo proprio chiedendo aiuto stiamo aiutando e il bello di delle domande che che vengono fatte dalle persone è come posso come posso trovare la bellezza come posso amare quella situazione so che devo farlo ma non riesco c'è una consapevolezza ben diversa quindi per capire perché un'anima sceglie determinate difficoltà secondo me è giusto forse presentarla quest'anima o almeno come come la pensiamo a questi livelli quindi quindi quando ci ritroviamo in queste in queste dimensioni più elevata ad un livello vibrazionale penso che l'abbiamo già visto ora non ricordo comunque l'anima ha come compito diciamo scolastico per la sua età animica ha il compito di venire a risvegliare ciò che noi chiamiamo materia la materia è un energia che viene animata dalla nostra essenza da un soffio altrimenti fa quello che gli pare non ha forma in realtà la materia vive secondo le leggi del caos non ha non ha armonia non ha direttive è il principio superiore che plasma la materia che le dà forma che le dà una direttiva e visto che l'anima ha come compito quello di diventare come i suoi genitori la madre vita il padre dio che sono la stessa cosa ma l'anima che a un livello di età è più piccola ovviamente dei genitori ha come compito di diventare come loro e uno una delle qualità divine di dio è quella di rendere obbediente la materia lui comanda e non è il padre padrone dei nostri ma da un comandamento da un'idea esprime un'intuizione una volontà e riesce a plasmare la materia che sia fisica di questa dimensione o che sia di altre dimensioni e la materia non ce l'abbiamo solo noi c'è c'è anche in altri mondi però lui da un comandamento alla materia e noi stiamo diventando stiamo siamo venuti per diventare così siamo degli apprendisti maghi siamo venuti ad imparare a dare un comando alla materia a poterla plasmare in base alla volontà dell'anima per fare questo ci confrontiamo con la materia capricciosa ci confrontiamo con un ego una personalità che vuole fare di testa sua quindi scegliamo delle incarnazioni male scegliamo proprio a tavolino io questo ci tengo ci tengo esprimere non è che le scegliamo così in modo etereo cioè ci sono proprio dei luoghi precisi con delle stanze degli schermi dei tavoli luminosi dove viene programmato lo e lo scenario del film che vogliamo venire a vivere sul pianeta proprio non so che sono dei degli schermi estremamente all'avanguardia estremamente tecnologici dove proprio come delle scacchiere noi progettiamo la matrice dell'incarnazione che vogliamo venire a vivere perché quella matrice andrà a plasmare andrà a far emergere ci costringerà a far emergere nella materia che non vuole sentirne ci costringerà a far emergere delle caratteristiche superiori quindi innanzitutto siamo noi che ci siamo programmati questa incarnazione a tavolino è la nostra coscienza superiore che sa il perché di questa incarnazione e si va a scegliere delle mancanze va a scegliersi dei vuoti energetici delle mancanze dove lei è costretta ad andarsene lei stessa a riempirle a riempirsele una mancanza d'amore una mancanza d'attenzione una mancanza d'affetto una mancanza di una di un'armonia fisica ad esempio ci scegliamo delle mancanze dove l'anima sarà costretta lei stessa a portarci armonia a portarci amore è lì che noi diventiamo un essere divino adulto perché siamo costretti a tirarle fuori queste a rimboccarci le maniche e a tirarci le fuori queste caratteristiche quindi ci sono proprio degli incontri estremamente profondi nella nella nostra vera casa nella dimensione dalla quale veniamo dove con con degli esseri più saggi di noi proprio sono persone hanno due occhi un naso una bocca andiamo proprio a dirci ok anima che cos'è che ancora non hai forgiato come caratteristica divina sulla terra là dove la materia va controcorrente all'anima là dove non ha forma là dove c'è l'oblio che cosa vuoi manifestare come qualità e lì si plasma si costruisce proprio come dobbiamo immaginare come un tunnel un film di scenari di 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 incontri di colpi di scena che ci obbligherà a diventare un essere di luce e io penso non so un essere di luce per esempio imperturbabile ballo a tentare il tuo angelo custode sorride rimane fedele a se stesso sa difendere il suo spazio sa farsi rispettare sa perdonare sa comprendere sa essere compassionevole non giudica non vede separazione non vede il male sa creare sa insegnare sa rimane rimanere nel silenzio sa non interferire sono tantissime qualità di un essere di luce e noi visto che siamo destinati si parla di destino ma noi diventeremo un essere di luce fa parte della nostra storia animica come per un bambino c'è l'adolescenza c'è l'adultità c'è l'anzianità per un'anima noi tutti vivremo uno step dove saremo guide di luce per esseri più piccoli di noi lo diventeremo ma per diventarlo io mi ricordo sempre all'asilo quando andavo all'asilo in italia c'erano i piccoli mezzani e grandi c'erano i tre anni e i grandi del terzo anno di asilo avevano il ruolo di proteggere di accudire di guidare un più piccolo era un modo per diventare grandi questo processo lo vivremo anche noi ma dobbiamo arrivarci ad essere degli esseri di luce tali da poter guidare ispirare proteggere qualcun altro e così via c'è tutta una scala no di di come si dice di crescita per diventare pari pari a dio quindi ci scegliamo uno scenario ben preciso dal quale non potremo uscirne inizio ad anticipare un po destino libero arbitrio scegliamo una matrice che ci plasmerà fino all'ultimo e da quella matrice non se ne esce se ci scegliamo in questa incarnazione di indossare per esempio ci svegliamo la mattina diciamo stamattina mi vesto con una tuta da ginnastica il vestito che ti sei scelto è questo non puoi cambiare nel corso della giornata no voglio l'abito da sera perché cosa succede ti tocca di dover tornare a casa spogliarti lavarti riposarti scegliere un nuovo abito dall'armadio nuove scarpe nuovi accessori cambia tutto per poi ritornare al mondo la stessa cosa è l'incarnazione si sceglie un abito si scelgono delle vesti che attiveranno in noi delle caratteristiche io vedo che quando le scarpe da ginnastica anche il mio atteggiamento è sportivo quando ho il vestito da sera sono tutta fighettina tutta tutta raffinata mangio in un certo modo sono le scarpe da ginnastica il ristorante sono proprio cambiamo cambiamo quindi anche anche per la nostra incarnazione scegliamo dei colori e da quei colori non se ne esce per uscirne bisogna tornare a casa quindi tutti meno e meno male scegliamo delle mancanze tutti nessuno nasce con la completa pienezza di tutti gli elementi di tutto l'amore di tutte le attenzioni la perfezione la perfezione non c'è in questa incarnazione altrimenti non ha senso venire perché non avremo nulla da forgiare gli handicap comunque sono capisco che sono vissuti in modo molto più forte ma non sono più difficili di altre vite ci tengo per i nostri occhi sì ma non è che ecco una persona che i genitori la casa vuol dire che abbia meno difficoltà di una persona portatrice di un handicap sono comunque vite sicuramente diverse allora perché è una persona si sceglie ad esempio la cecità la sordità conosco un parente di un amico che il nonno sordomuto è molto interessante perché tutta la famiglia è costretta a comunicare in modo diverso è affascinante tutta la famiglia sta e la persona stessa nel corso di questa vita sono obbligati a trovare un altro modo per comunicare senza saperlo stanno sviluppando una sensibilità gli esseri sottili gli esseri di luce coloro si può stare in silenzio che ascoltano perfettamente ogni tua nota non c'è bisogno di parlare questa è una caratteristica che siamo venuti a forgiare quello di di andare oltre ciò che l'altro ti dice è un talento perché con la parola possiamo camuffare il nostro stato interiore possiamo dire quando qualcuno ti chiede come stai bene dirà benissimo anche se dentro una giornata terribile una persona che non ha possibilità di esprimersi con la parola è nuda è e ci permette di leggere i suoi occhi di leggere la sua luce di leggere il suo sentire sono persone ad esempio che vengono per imparare per attivare un'empatia una comprensione del diverso del non essere omologati una persona con un handicap una persona diversa e quell'anima conoscerà l'importanza e la sacralità del non essere tutti formattati tutti precisi perfetti con gli occhiali dolce gabbana il portafoglio gucci tutti uguali conosceranno l'unicità e la bellezza che si esprime attraverso l'essere diverso saranno persone che non giudicheranno una persona che porta proprio un handicap fisico una mancanza di possibilità di agire sono persone che vengono a conoscere la perfezione perché per gli occhi degli altri loro non sono perfette ma loro conosceranno che la perfezione è interiore è nel cuore non è nella fisicità sono anime per esempio che conoscono l'importanza di essere aiutati dagli altri ho conosciuto una persona portatrice di handicap dove in una vita passata era estremamente orgogliosa doveva farcela da sola accettare l'aiuto degli altri era un fallimento e in questa vita quest'anima si è scelta di non poter far nulla da sola nemmeno andare in bagno per quell'anima è un duro scoglio ma sta conoscendo il ricevere la bellezza del lasciarsi accudire l'omosessualità ci sono persone che mi scrivono come possiamo aiutare le persone che scelgono una vita omosessuale non c'è nulla da aiutare non c'è non bisogna aiutarla l'omosessualità mica una problematica le persone oggi che scelgono di vivere l'omosessualità sono persone che ci insegnano insegnano i loro cari che l'amore va oltre la forma la forma è un abito l'omosessualità ad un livello energetico non esiste perché viviamo in una dimensione dove sono gli opposti che si attraggono quindi c'è sempre un principio maschile un principio femminile che si cercano e quando vediamo io tantissimi amici omosessuali tantissime coppie che adoro ma se si guarda a un livello energetico abbiamo di fronte a me un sole una luna del fisico della carne di quello che riveste il sole di quello che riveste la luna ma cosa ce ne frega e loro insegnano innanzitutto sono persone che vengono sono anime che vengono ad imparare a non dare importanza al giudizio altrui agli sguardi altrui rimanere fedeli malgrado gli sguardi gli sguardi altrui non è facile non è facile perché adesso mi sono vaccinato allora ci sono gli altri che mi guardano male non mi sono vaccinato allora ci sono gli altri che mi guardano male ed è così non è mio papà quando ero piccola miss mi faceva uscire con una scarpa diversa dall'altra lo detestavo io che all'epoca ci tenevo essere perfetta lo sguardo altrui ci tenevo tantissimo e lui mi faceva mettere una scarpa da ginnastica diversa dall'altra e oggi ho capito io ho capito che cosa mi insegnava ad andare oltre allo sguardo sì te stessa mi diceva sbattitene tu chi sei quali sono i tuoi colori tu come vuoi vestirti e queste anime vengono proprio a dire io amo punto come cosa non ha importanza io amo e vado oltre lo sguardo inizio andare oltre corrente e rimangono nel loro essere nel loro amore malgrado ciò che gli altri dicono e insegnano le loro famiglie ad andare oltre il giudizio oltre lo sguardo e a conoscere il vero amore e di scenari così cioè possiamo parlarne tutta sera mi ha fatto ecco mi ha chiesto gli handicap cerco un attimo ora l'omosessualità non ha a che vedere con gli handicap ovviamente ma per capire che ogni scenario ogni scenario ma penso l'alcolismo le droghe sono tutti scenari che scegliamo per venire a sviluppare delle caratteristiche che più nessuno ci toglierà quindi nessuno e nessuna vita è giudicabile perché se noi guardiamo quelle vite dal punto di vista dell'anima quello scenario è perfetto per quella persona non c'è nulla di sporco non c'è nulla di sbagliato non c'è nulla da riparare ma quella mancanza quella cosa disarmonica è perfetta per far emergere espandere una qualità armonica ho incontrato tantissime donne che hanno avuto problemi femminili di cancro all'utero al seno tantissime e sono donne che oggi grazie a quella problematica quella malattia quell'abuso quella violenza oggi sono riuscite da sole cioè grazie a questi eventi a fare emergere la loro femminilità e quella femminilità non gliela toglierà più nessuno sarà eterna ecco ovvio che sarebbe tantissimo da dire ma le mancanze ciò che noi reputiamo come sbagliato in realtà è proprio ciò che serve all'anima per rivelarsi una volta per tutte c'è stata una signora che mi ha scritto in questi giorni di sua figlia che vive per strada abusa d'alcol e di droghe e mi dice mia figlia era una figlia speciale ma è proprio perché fa usa di fa uso di droghe che è speciale perché a quell'anima sta conoscendo il ricercare la luce ad un livello basso a un livello a un'ottava bassa perché la droga l'alcol ti fanno conoscere quelle vibrazioni quella leggerezza che schi l'anima conosce le persone che fanno uso di droga sono persone che conoscono la luce e che la ricercano terribilmente in questa vita sono esseri luminosi ma che non riescono a portarla loro la luce la cercano fuori il loro compito è trovarla dentro e nutrirsi della loro luce interiore e non abbeverarsi più da qualcosa di artificiale ma quella è un'esperienza che devono fare questo non vuol dire non aiutiamo più nessuno io non sto dicendo questo ma aiutiamoli non a diventare perfetti in base a ciò che la società vuole da noi ma aiutiamoli a far emergere le caratteristiche divine che vogliono acquisire in questa incarnazione aiutiamoci ad essere al servizio dei nostri piani di incarnazioni reciproci reciproci c'è stato mia mamma che mi ha mandato un testo ho una zia anche lei un po speciale no riceve dei messaggi vede cose e l'altro giorno le ha scritto un testo bellissimo le ha scritto esattamente perché la sua anima ha scelto questa incarnazione quella persona piuttosto che l'altra che cosa queste persone stanno facendo emergere in lei mia zia è entrata in connessione col piano di incarnazione è questo che noi siamo venuto a fare e magari ne parliamo un attimo questa sera è questo che sta arrivando sul pianeta terra in questi giorni è finalmente guardarci negli occhi e non più essere vittime del mondo esterno non comprenderlo mi dicono tutti arriverà la quinta dimensione benissimo ma si pensa che nella quinta dimensione non ci saranno più problemi che d'un tratto dal casino in cui siamo nel giro di due mesi non ci sarà più nulla mi ricorda un po i fatalisti che credono che quando si muore si ha degli illuminati non è così e mi dispiace di essere sempre quella che rompe le scatole ma come quando si muore c'è un percorso per a ritornare ad essere anima anche ora quando si passa dalla nella quinta dimensione non è che sarà tutto perfetto ma cambierà il nostro sguardo l'imperfezione ci sarà ma noi non la vedremo più la benediremo questo è il grande cambiamento planetario stiamo iniziando a riallinearci alle volontà del nostro sé di chi siamo realmente che cosa vuole la nostra anima cioè noi noi se siamo in una situazione che non ci piace è perché non siamo allineati con la nostra anima perché la nostra anima vuole quella situazione quindi vuol dire ciò che c'è una bellezza che noi non riusciamo a vedere questa è la nuova era non che saremo illuminati non avremo più nulla su cui lavorare ma che le situazioni che ci plasmeranno saranno benedette e collaboreremo con loro diremo ah c'è questa di io ho tantissime difficoltà ne ho tante non è che mi dicono ma come chantal tu provi queste emozioni ma certo che le provo ho un ego ho un corpo ho una materia quindi anch'io ho la materia che vuol far quello che gli pare certo ma quando c'è una situazione difficile non dico è ingiusta non dico cavoli la mia vita va male sono sfortunata dico grazie vita perché vedi me il potenziale per superarla quella difficoltà quindi vedi me la mia grandezza grazie grazie di questa visione che è di me e allora cerco di averla anch'io questa visione perché se tu la vedi e io no beh sono io che sono nell'errore perché se tu mi vedi grande e io no sono io in errore allora affronterò quella situazione e andrò a trovarla la mia grandezza questa è la nuova era finalmente riconciliarci con ciò che abbiamo scelto essere adulti ci siamo ci siamo scelti un piano di incarnazione noi l'abbiamo scelto non qualcun altro beh diventiamo adulti e diciamo che mi sono scelto questo lavoro questa situazione perché e tiro fuori la luce che mi viene questa in questa situazione e quando avrò tirato fuori la luce in quella situazione cambierà e mi sarà proposto qualcos'altro proprio così è bellissimo veramente prima hai parlato no che magari di fronte alla persona che non può parlare no perché magari è sordovuta no quindi si comunica in maniera diversa e quindi si è nudi di fronte a questa persona o meglio questa persona è nuda di fronte a noi ma è e viceversa no e quindi mi è piaciuto molto questo questo esempio perché effettivamente mi sono guardato dall'altra parte ed era la stessa nudità in quel confronto quindi senza maschere alcuna tutti noi viviamo vite di cecità e di sordità perché sono quelle vite che ci permettono di attivare a un altro sguardo quindi ci passiamo tutti o ci siamo già passati e iniziamo a leggere a percepire quel tessuto invisibile che ci unisce tutti siamo tutti collegati non c'è separazione e iniziare a leggere quel tessuto è di una bellezza di una magia perché alla fine quel tessuto ci rende simili ci rende uguali ci rende fratelli non c'è più razza non c'è più sesso non c'è più l'aspetto estetico tante donne mi dicono non sono bella io ancora non ho incontrato una donna brutta non esiste come un uomo la bellezza è ovunque appartiene a tutti sta a noi leggere oltre le linee del fisico oltre il vestito oltre la parola e ci sono vite che vedi diciamo perché ci permettono questo proprio così davvero portatori di handicap in genere sono esseri molto speciali sì assolutamente condivido appieno poi chantal altre domande che sono arrivate ad esempio qual è la tua visione in merito appunto al destino secondo te è qualcosa di già scritto oppure l'essere umano lo può modificare e destino è il volere dell'anima allora io il destino una parola che che uso poco c'è non uso proprio non perché non ci creda ma non come lo intendiamo io sembrerò una persona molto eterea che parla di mondi sottili però li vivo in modo estremamente concreto non sono fatalista e mi piace parlare di cose concrete seppur parliamo di anime di mondi sottili per me sono realtà vere come come quella di questa sera quindi io non so se esista un altro destino al di fuori di quello che secondo me è e lo dico con tantissima umiltà non penso di possedere la verità assoluta però per me per me chantal il destino io lo chiamo il piano il piano di incarnazione per me questo è il destino è questo progetto questa matrice che abbiamo scelto prima di incarnarci dalla quale non si può uscire no lo dicevo prima scegliamo il vestito da scarpe da ginnastica non possiamo cambiarlo in corso d'opera questo è il destino dobbiamo pensare un po a volte ci scherzo quando scegliamo il piano di incarnazione un po quando siamo nella hall del cinema che adesso ci sono questi schermi che ti scegli il tuo film una volta c'era il biglietto adesso ci sono queste macchine che scegli il film e tu parti con questo biglietto con questo film nelle mani parti e ti fai un tuo viaggio per qualche ora e poi ritorni nella hall e poi sceglierte un altro di film è uguale all'incarnazione tutti crei il tuo film non è già pronto te lo crei vai te lo vivi ma non puoi uscire dalla sala se hai scelto un film comico non puoi nel corso d'opera cambiarlo con la bacchetta magica sceglierti il thriller questo secondo me è il destino della personalità ma che non è essere vittime perché la personalità non siamo noi noi diciamo io 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 il mio destino no questo questo è materia che l'anima vuole plasmare quando soffriamo del nostro destino è perché non ascoltiamo la nostra voce interiore quindi il piano di incarnazione è un tema dal quale non si può uscire a meno che forse anticipo anticipo un attimo la serata a meno che non scegliamo il toglierci la vita allora lì si può scegliere di uscire dal piano di incarnazione questo non vuol dire che tutto è deciso che ogni gesto ogni pensiero è stato già scelto no come noi ci muoviamo in questo film in questo matrice matrice c'è proprio fortunatamente se no saremo dei burattini dove già tutto è scritto però i grandi temi della nostra vita i grandi incontri questi sono stati tessuti sì questo sì e non mi dispiace dirlo però non si può uscirne per me il destino è animico io chiamo il destino quando penso che tutti siamo destinati ad essere qualcuno e secondo me il destino è la forma che saremo ma che già è presente è un po la forma dell'albero che è già presente nel seme per me questo è il destino un seme di un pesco è destinato a diventare un albero di pesco non diventa un pino marittimo questo è il destino ogni nostra anima ha un colore ha un rappresenta rappresenta un soffro della vita della vita una nota e siamo destinati a fiorire e a celebrare ad incarnare quella quella nota anche lì non possiamo uscirne non possiamo uscire da come ci ha fatti il creato ma da lì a come la pianta crescerà a come il vento la sposterà quale posizione quello è libero arbitrio quello è una nostra è una nostra scelta ma non potremo diventare un pino il destino lo vedo lo sento spesso come qualcosa mamma mia c'è un destino è tutto scritto tutto è stato scritto no è stata scritta l'esperienza cioè è stato scritto quello che noi vogliamo fare emergere ma non è stato scritto che scalpe che scarpe sceglieremo domani mattina quello chi se ne frega ma è stato scritto quali eventi attireremo noi quali situazioni che ci forgeranno determinate caratteristiche interiori il destino non è qualcosa di esterno i dettagli domani lo scelgo bruno lo scelgo biondo non sono queste sono queste le decisioni ma il tema in questa vita quale tema sono venuto a sviluppare e tutto si organizzerà per farcelo attivare per per farcelo realizzare quindi è qualcosa che assolutamente padroneggiamo in realtà e più siamo allineati all'anima più iniziamo a prendere in mano il volante del nostro destino del nostro piano di incarnazione e a mano a che viviamo anche in questa vita iniziamo a scegliere in base però all'anima non in base alla personalità l'anima sa che cosa è giusto inizia a prendere le redini delle sue scelte e non c'è più una matrice della quale siamo vittime ma questa anima inizia lei a scegliere giorno dopo giorno quelle situazioni senza più un padre una madre che ce le invia ma se le sceglierà lei allora diventiamo adulti che padroneggiano e non ci sentiremo più vittime ecco questa il mio la mia versione del destino che qualcosa di estremamente per me pratico e al servizio sempre di uno scopo sei stata molto chiara e credo anche di aiuto a tutti noi e poi sempre come domande invece chantal e qua aggiungiamo al dunque cos'è secondo te il libero arbitrio cioè in quale modo il libero arbitrio può essere davvero importante per la nostra evoluzione e come dovrebbe davvero essere inteso questo libero arbitrio beh il libero arbitrio ci fa crescere se se non ci fosse libero arbitrio saremo scintille divine che fanno costantemente quello che la mamma e papà dicono punto è quando eravamo eravamo un'unica cosa nel principio eravamo nel ventre della mamma un neonato nella pancia della mamma non ha molto libero arbitrio è punto e è quello che succede il libero arbitrio è proprio ciò che permette alla cellula divina alla scintilla lo spirito di rinnegare la fonte di perdersi di cadere di conoscere se non ci fosse il libero arbitrio non sceglieremmo di essere luce lo saremmo e basta ma è la scelta che ci fa diventare adulti e ci permette a nostra volta di fare espandere la vita attraverso di noi altrimenti la vita si fermerebbe non so se ne abbiamo parlato di questo non mi ricordo cosa abbiamo parlato questo questo no è questo concetto no quindi la vita è noi e continua ad espandersi in soffi ma attraverso di noi cioè non c'è un nucleo che è la vita poi c'è la creazione intorno a lei e lei da questo nucleo continua a creare altre cose no lei se un nucleo si espande si espande si espande e quello che c'è dentro è la creazione e quindi anche noi e continua ad espandersi in questo modo no moltiplicando cose esterne ma espandendo se stessa quindi se noi non diventiamo cellule scintille adulte la vita attraverso di noi non può espandersi c'è una fine il libero arbitrio è quella possibilità di dire io sono io voglio io non voglio io mi stacco dalla mamma faccio un percorso rinnego rinnego me stesso rinnego l'amore rinnego la luce dico di no dico non voglio crescere ma fino a quando saremo costretti perché la nostra linfa è luce saremo costretti a diventarlo il pesco ma lo diventeremo per scelta e li sceglieremo di espandere la vita attraverso di noi è le fondamenta della creazione è anche ciò che nel piano di incarnazione nel destino non so come volete chiamarlo ma è ciò che nel piano di incarnazione permette all'ego di dire no se non ci fosse il libero arbitrio non ci scegliamo il piano di incarnazione l'ego dice amen 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 non ci sarebbero attriti non ci sarebbero ferite non ci sarebbero difficoltà perché l'ego sarebbe al servizio dell'anima e quindi non ci sarebbe crescita e quindi non ci sarebbe evoluzione non ci sarebbe espansione il libero arbitrio ciò che permette alla nostra personalità di dire no anima io non ti ascolto ed è lì che nasce l'attrito che ci fa crescere ed è lì che iniziano i conflitti le difficoltà che conosciamo che conosciamo delle note che non sono quelle animiche pensate che nasciamo in un in un mondo dove esiste solo una sinfonia c'è solo mozart come possiamo apprezzare la bellezza della sinfonia di mozza se non abbiamo conosciuto la techno sì c'è questa musica di fondo ma non non la vediamo non la sentiamo veramente perché c'è sempre stata il libero arbitrio ci permette di conoscere la techno la metal di dire no anima e non voglio più la tua armonia io faccio di testa mia e conosco il caos allora quando conosciamo il caos e iniziano a non darci più bene la techno inizia a darci male alla testa inizia a crearci le problematiche è lì che diciamo wow la sinfonia di casa però non era niente male caspita ma c'è una musica bellissima ma questa musica tocca delle note interiori espande luce crea armonia crea iniziamo dare un valore a quello che avevamo e che siamo ma questo solo grazie al libero arbitrio il libero arbitrio ci permetterà di dire un giorno io sono dio altrimenti io sono non l'avremmo mai detto saremmo rimasti il neonato nella pancia io sono dio è la vita che è cresciuta dall'inconsapevolezza è diventata consapevole di se stessa è diventata adulta e da questa cellula adulta di nuovo si espande ma non è a volte mi dico il libero arbitrio di scegliere no le persone mi dicono sì ma io ho scelto il piano di incarnazione ma il libero arbitrio di scegliere l'anima al libero arbitrio di scegliere di conoscere altro ma la personalità sì al libero arbitrio di non ascoltarla l'anima ma non potrà se non con il togliersi la vita non potrà disobbedire totalmente all'anima questo non è possibile perché l'incarnazione è al servizio di una crescita animica non di una crescita della personalità l'anima vuole attraverso questa materia vuole educarla vuole risvegliarla vuole portarla alla sua consapevolezza il libero arbitrio non voglio crescere non voglio saperne nulla dell'anima ci porta a vivere delle situazioni difficili delle malattie degli incidenti che ci fanno conoscere il metal ma che poi ci riportano a casa il vero libero arbitrio della personalità è strappare il contratto dell'incarnazione e anche questo è una fase che tutti siamo chiamati a conoscere la nostra anima una volta in una sua incarnazione si è tolta la vita tutti lo abbiamo fatto come l'abbiamo tolta ad altri perché conosciamo fino in fondo il libero arbitrio della personalità grazie davvero chantal credo che spero di dare delle nozioni un po più si tratta chiari se guarda dai commenti insomma che che leggiamo si è stata chiarissima volevo anche dire che poi raccoglieremo tutti questi commenti perché ci sono moltissime domande e quindi faremo poi faremo poi una un incontro successivo quindi non preoccupatevi se ma non possiamo rispondere in diretta ma le vostre domande vengono raccolte non preoccupatevi poi chantal in merito a tutto questo bellissimo ok argomenti stupendi ma alla fine no mi piace mi piace proprio essere molto pratico sai che io sono molto diretto in merito a questo ma in questo momento storico vaccini e quant'altro cioè in realtà perché abbiamo scelto di poter c'è una correlazione e qual è se c'è aspetta che mi sei partito un attimo rifami la domanda o l'ultimo pezzo scusami allora praticamente tutto bello tutti i discorsi ok ma in realtà perché ci siamo incarnati in questo momento storico no vaccini e quant'altro questo gran casino che sta accadendo c'è una correlazione in merito a questo e in realtà cosa siamo venuti a imparare una domanda un po scomoda sintetizzo la domanda ma perché cavolo siamo venuti in questo periodo di m dillo volevo essere un po più diplomatico ho parlato io per te chi ce l'ha fatto fare allora domanda domanda non difficile però insomma allora quindi in questo destino e in questo libero arbitrio tutti insieme se siamo incarnati qui oggi è perché abbiamo scelto un insegnamento comune seppur ognuno di noi nella propria individualità vive questo periodo storico con degli insegnamenti propri io sto imparando tantissimo sto affruttando le mie più grosse paure non soltanto per gli avvenimenti storici covid non covid ma proprio perché il pianeta terra è estremamente sollecitato forse l'ho già detto tutti noi stiamo sollecitati ad una certa adultità un livello planetario stanno succedendo cose estremamente interessanti innanzitutto il pianeta voglio dare finalmente una notizia positiva ma il pianeta sta facendo la sua strada e è bello perché mentre posto parlando di questo stiamo 888 che il mio numero 888 quando 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 la cosa è giusta c'è l'888 e il pianeta terra sta davvero facendo la sua strada quindi c'è un'espansione della luce incredibile il pianeta terra io non so se in questi giorni voi avete avvertito cose strane o vi sentite strani io da venerdì sono estremamente strana ho una specie di mal di testa cosa che io non soffro mai ho delle sorte di vampate di calore infatti mi sono preoccupata ho detto cosa succede strana quando cammino mi sento sulla sulle nuvole o sulla luna sono mi sento un po stordita e quindi mi sono confrontata in particolare con con un'amica no e parlavamo l'altro giorno e ci dicevamo ma che cosa sta succedendo e entrambe abbiamo proprio percepito che il pianeta terra finalmente si dice spesso no che la che la terra è la nota è la nota non è la corda non accordata del del sistema sonale del sistema solare la è la nota disarmonica e secondo me questo non lo è più sta proprio avvenendo un cambiamento vibrazionale dove ci sono delle forze galattiche delle forze estremamente stellari che stanno riportando il pianeta terra alla sua frequenza d'origine la frase che continua a venirmi è il pianeta terra sta tornando ad essere galattico e per me vuol dire che finalmente sta tornando a ritornare alla tavola dell'alleanza dei nostri pianeti quindi ha giocato un ruolo a inter scusate giocato lo si dice cese ha interpretato un ruolo il pianeta di disarmonia ma oggi basta oggi questo è finito ed è un po quello che viene detto tutti noi la matrice che ci siamo scelti in questo in questa incarnazione e che è un privilegio è che noi non vogliamo più essere dei ragazzini che giocano con i piaceri dell'ego perché è stato importante provare piacere dalla materia saporirla bisogna conoscere la materia non è solo il male bisogna giocare con le passioni sentimenti bisogna saperla manipolare la materia perché noi stessi diventeremo creatori noi stessi un giorno dovremo dare delle direttive e plasmare la materia quindi dobbiamo conoscerla per darle delle direttive l'abbiamo fatto ci siamo divertiti più o meno adesso è il tempo di entrare in un processo di adultità il qual è questo processo di adultità ed entrare nelle frequenze del cuore dell'anima dove non ce la si racconta più ci si incarna per un motivo e lo si onora il pianeta terra ritorna a sedersi nella tavola rotonda degli altri pianeti e degli altri fratelli delle stelle e ora non siamo più i fratellini che giocano con l'ego si divertono iniziamo anche noi a tornare a far parte degli esseri che servono l'anima che sono consapevoli e che hanno una missione nell'universo per qua per far questo però ci vogliono delle prove che fanno sì che noi questa luce la rispettiamo fino all'ultimo per diventare adulti un adulto è uno che si prende le sue responsabilità e che la discoteca il cambiare mille partner non lo tenta più c'è un momento dove si dice ok mi sono divertito però adesso voglia di costruire inizia ad essere l'anima nel momento dell'adultità inizia a dire ok chi sono che cosa voglio fare e lo costruisco questo è il periodo storico nel quale siamo e al quale siamo destinati siamo destinati a diventare adulti in che modo in che modo si diventa adulti mi piace una parte di harry potter non mi ricordo più quale quale libro dove il professor stilente che rappresenta il grande maestro rappresenta l'illuminato non è un padre ma è un maestro e ancora al di sopra non è un re ma è un maestro è un insegnante e dice ad harry potter che un apprendista mago è un'anima che cresce a ri inizia il libro dove un film dove voldemort ritorna parlo di questo perché un film estremamente importante ed è attuale cosa succede voldemort c'era quindi questo stregone nero c'era in in tempri precedenti quando harry potter è un neonato e ce l'aveva con i babbani ce li aveva con quelli senza potere senza potere magico c'erano delle scene dove tutti uguali tutti uno in fila il grande stregone che lui che decide non c'è gioia non c'è colore tutti uguali e a me ricorda tantissimo il nazismo il nazismo non è soltanto una posizione politica ma è una vibrazione è il volto delle forze anti coscienza è lo stregone nero negli anni negli anni 40 con la fine della seconda guerra mondiale abbiamo pensato di di aver vinto sullo stregone nero ma come i film o i libri di harry potter ci dicono bene non è morto ma semplicemente si era indebolito e poi ad un certo punto ritorna questo è quello che sta succedendo sta ritornando un movimento che possiamo chiamare nazismo fascismo comunque questa energia anti coscienza che però è interessante mi spiego molto bene in che senso interessante non intendetemi perché queste forze anti coscienza hanno un principio interessante cercano di costruire una società perfetta armonica ordinata è interessante questa cosa perché ad un certo ad un certo livello questi esseri hanno dentro di loro il ricordo di una società perfetta altrimenti non la cercherebbero l'unico problema è che la perfezione la loro interpretazione della perfezione è al servizio dell'ego dell'ordine esterno non dell'ordine interno quindi ad un ottava bassa loro propongono una perfezione tutti vaccinati tutti con il microchip una società nella società nella società nei binari nei ranghi uno distanziamento di un metro non le folle non il casino non tutto l'ordine quindi loro rappresentano ad un ottava bassa una perfezione armonica che ci sarà ad un ottava alta all'interno non all'esterno e ritornando ad harry potter quindi resta tornando questa questa filosofia questo questo mago nero e il grande maestro gli dice arrivano tempi e in cui bisognerà scegliere tra ciò che è facile e ciò che è giusto è una frase che continuo a ripetere che cos'è questa scelta ho creato un nuovo corso per parlarne meglio l'ho intitolato prima di nascere ma parliamo un po' di queste cose dove spiego questa sera ci manca il tempo ma spiego il percorso dell'anima che fa sul pianeta terra l'anima viene ad incarnare ad essere degli archetipi dei principi che costituiscono dio ci sono proprio delle forze come il il poter esistere nella materia il avere una forma questa è una caratteristica di dio avere una forma è l'emettere una volontà è il creare è l'insegnare il regnare ci sono delle caratteristiche degli step e l'umanità fino ad oggi ha vissuto i primi tre step che l'hanno portata ad integrare il terzo centro il centro del plesso d'ossolare il terzo chakra ogni chakra rappresenta uno stato di coscienza divino quindi l'umanità possiamo dire oggi che si trova nella terza dimensione terzo chakra noi stiamo completamente integrando gli insegnamenti di questa terza qualità divina che è la capacità di di esprimere chi siamo all'esterno di portare i nostri colori le nostre idee il nostro potenziale il potere a che ottava è il portare i nostri progetti il condividere il con gli altri e va bene non sto a dilungarmi non voglio rompervi con questo fatto sta che ora stiamo entrando nella quarta dimensione perché già si parla della quinta ma io a me piace un attimo fermarci nella quarta prima di passare alla quinta e la quarta dimensione è caratterizzata da quella qualità interiore di sapere andare oltre il bene il mare il male di sapere andare oltre i nostri bisogni personali ma sapere fare ciò che è giusto e infatti io chiamo questo archetipo del cuore il re o il eraone è colui che non pensa più a se stesso i suoi piaceri a divertirsela all'io io sono io chi sono quale colore quale qual è la mia particolarità chi sono qui siamo in un essere che sa esattamente chi è e che non si lascia più tentare dall'apparire ma fa ciò che è giusto è questo che silente dice harry potter di scegliere ciò che è facile e scegliere la personalità scegliere cosa la personalità non vuol vuol fare il fare ciò che è giusto e diventare degli esseri adulti in quel film c'è tutto oggi ci viene chiesto di integrarla questa giustezza non in ciò tanto in ciò che facciamo fuori non c'è una scelta giusta fuori ma c'è uno stato d'essere ho seguito ho seguito delle persone in questi giorni che hanno hanno ricevuto il vaccino e è molto interessante che cosa fa questo vaccino ad un livello energetico ora io non sentite di tutto in questi in questo periodo ruba l'anima toglie l'anima ci sono parole molto forti riguardo a questo vaccino e io vorrei un attimo ridare forma a questa sostanza perché le stiamo dando un potere sovraumano stiamo parlando comunque di una sostanza chimica non so io non so che cosa c'è dentro non sono un medico però parlo di energia di una sostanza che è stata creata da un essere umano da una mente umana non può essere sovraumana questa sostanza come può una sostanza andare ad interferire con l'anima quindi già vorrei darle un attimo una ridimensionata ma soprattutto ridare potere a noi perché finché pensiamo che un liquido ci può rovinare l'anima siamo messi male non perché questa sostanza non sia nociva non sto dicendo questo ma cavoli noi siamo degli dei siamo degli esseri divini questa è la forza che dobbiamo tirare fuori prima il nostro potere se noi siamo frequenza allineata possiamo attraversare una nube atomica non ci succederà nulla ora non siamo questa frequenza imperturbabile siamo una frequenza disarmonica e quindi la disarmonia può perturbarci quello che ho visto che il vaccino fa se vogliamo trovargli una ragione divina perché abbiamo scelto questa questa questo periodo storico il vaccino che cosa fa guardavo le cellule delle di una persona ero all'interno del suo corpo il vaccino ha una frequenza estremamente lontana da quella naturale è una frequenza artificiale è una frequenza non divina che cosa fa questa frequenza che viene iniettata all'interno del nostro corpo è una frequenza potente non è innocua non è leggera quindi c'è un egregore dietro bella potente è come se cercasse di modificare la frequenza delle nostre cellule cerca non ho detto che lo fa quindi sapete che le frequenze ora non sono però a un livello energetico è una danza e c'è sempre una frequenza nella luce nell'ombra una frequenza che avrà la meglio quella più forte quella più forte andrà ad informare anche l'altra frequenza che si adeguerà cosa vuol dire perché sto dicendo questo perché il vaccino la cura ora il vaccino cura il covid e noi cerchiamo la cura al vaccino la cura al vaccino è essere forti nella nostra vibrazione cardiaca è scegliere di rimanere integri senza più dubbi senza ma sì ma però perché ho paura non so ma non sono sicuro basta basta è il tempo di diventare dei re che sanno chi sono e sposano pienamente a costo di qualsiasi cosa ciò che è giusto senza più lasciarsi perturbare quando una persona è forte nella sua luce sceglie pienamente la sua vibrazione l'altra vibrazione diventa acqua se ne va non ha più forza questo è quello che i governi il vaccino la 5g i chemtrail eccetera eccetera cercano di fare le scie chimiche tolgono il sole la frequenza del vaccino toglie il sole delle nostre cellule vado a offuscarlo cerca di toglierlo la storia ciò che studiamo tutto cerca di togliere la memoria la memoria dell'uomo la memoria chi siamo è questo che non deve essere permesso e quando noi avremo il vero potere nulla ci può essere fatto nulla quindi siamo in un'epoca storica che abbiamo scelto perché finalmente possiamo imparare a diventare imperturbabili a riabbracciare l'uno l'armonia io voglio essere anima uno questo è il quarto centro la quarta dimensione senza più separazione e lì tutte queste cavolate chimiche se ne andranno non avranno più forza è lì che andremo a togliere potere è qualcosa di fisico è questo il messaggio che cerco tanto di trasmettere stiamo dando troppo potere a questo vaccino glielo stiamo dando noi diamo potere alla nostra luce diamo potere a ciò che è giusto in noi e più niente ci può essere fatto è un'epoca dove tutti diventeremo dei re ci saranno persone che diventeranno dei re grazie al vaccino perché le frequenze lotteranno inconsciamente la persona non lo saprà le frequenze lotteranno dentro e l'anima dovrà tirarla fuori espanderla al massimo la sua luce per vincere l'altra vibrazione altre persone diventeranno dei re rifiutando il vaccino altre persone diventeranno dei re sapendo che cosa fa il vaccino ma dicendo io devo lavorare in un ospedale devo è il mio servizio e scelgo di sacrificare una parte di me al servizio di qualcosa di più grande non c'è una scelta giusta è uno stato d'essere giusto è questo che ci insegna quest'epoca il nostro libero arbitrio di quest'epoca è dire io non voglio diventare giusto io non voglio diventare adulto ho ancora voglia di giocare con la personalità ho ancora voglia dei piaceri della mia fanciullezza animica e questa è una scelta e siamo in un processo che durerà ancora secondo me 4-5 anni dove è come se il pianeta Terra è entrato proprio in un tunnel spazio-temporale ma è come se le pareti di questo tunnel si facessero sempre più strette è come se siamo entrati in un utero e ci sarà una rinascita quindi queste pareti si fanno sempre 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 più strette quindi saranno anni dove il nostro essere sarà più che plasmato e forgiato quindi da un lato ci saranno paure senso di ingiustizia ci saranno emozioni fortissime dall'altro lato vi sarà l'emergenza di qualità divine sempre di più io vedo persone che iniziano ad esserla quest'anima persone che magari prima non dicevano nulla ora parlano cioè non dico che dicono cose ma quando parlano ci sono e non le sposti più iniziano a gioire iniziano a vedere la verità e sarà sempre di più davvero saranno anni di illuminazione per tutti noi e saremo poi costretti a passare quel tunnel e dopo quel tunnel beh ci sarà da ricostruire io penso che saranno poi anni di ricostruzione quindi prima c'è un mondo che crolla il vecchio che crolla e il nuovo che dovrà essere che dovrà essere ricostruito assolutamente dare forza a noi non a quello che c'è fuori sì sì è proprio sposare la nostra parte interiore adesso questo tunnel ci sta portando ad entrare in contatto con lei prima eravamo molto all'esterno di noi ora tutti tutti siamo portati ad entrare dentro a toccare con mano questa interiorità e a sposarla stiamo sposando noi stessi ed è lì che l'umanità inizia ad essere l'umanità del mondo nuovo possiamo finalmente diventare un popolo di esseri adulti che sposano l'anima e iniziano a costruire a collaborare in armonia con la vita è questo è questa la nostra storia per questo il pianeta Terra sta tornando ad essere allineato agli altri pianeti perché l'umanità è pronta a collaborare con altre specie con altri fratelli delle stelle che loro non hanno più voglia di giocare con l'iPhone e con le con l'ultime scarpe Nike a collaborare con chi sei cosa facciamo come serviamo la vita a questo siamo destinati possiamo scegliere di no la scelta va a rallentare la nostra evoluzione la scelta può farci incarnare altrove può farci rimanere nel mondo della materialità ma prima o poi l'anima ha scelto è scintilla divina lo diventerà un bambino non gli si può fermare la crescita non si può prima o poi crescerà questo è il destino siamo destinati a fiorire ad essere dei frutti della vita non possiamo non diventarlo il come lo diventeremo il tempo la grandezza la dimensione la forma quello dipende da noi quindi è il tempo di scegliere ciò che è giusto basta basta con le cavolate basta siamo tutti belli siamo tutti fratelli e lo dico col cuore tutti io ancora vedo nei gruppi spirituali dei batti vecchi ma delle cavolate di un'infantilità ma ancora oggi ancora oggi ci perdiamo in cavolate senza senso tu mi hai fatto tu mi hai tolto ma tu non sei così ma tu così abbiamo di fronte a noi delle anime sempre quest'anima cosa mi dice quest'anima di cosa ha bisogno è a questo livello che dobbiamo iniziare a vedere la vita non più che cosa mi fa mi ferisce il mio ego non è stata gentile non mi guarda non mi vuole bene che cosa mi insegna quest'anima che cosa questa situazione mi insegna che cosa oggi i nostri governi ci stanno insegnando non con l'esempio ma con la mancanza ci stanno togliendo qualcosa o con il non esempio o con il cattivo esempio ci mostrano qualcosa e sta a noi tirarlo fuori è il tempo di crescere insieme il tempo dell'amore e della consapevolezza e di questo eh sì perché l'amore lo si confonde come va tutto bene no cioè il fuoco fuoco l'anima è fuoco sa cosa è giusto e lo mette in pratica e non barcolla e non barcolla ora possiamo ancora barcollare però è il tempo di avere il coraggio di rivelarsi e di unirsi è importantissima l'unità in questo periodo storico non è ancora separarci ma unirci oggi siamo in tantissimi uniamoci in questa direzione diventiamo finalmente ciò per cui siamo degni ciò per cui siamo chiamati questo è il destino grazie Chantal sempre squisito ascoltarti quello che ci racconti poi è sempre estremamente esaustivo visto da molti punti di vista quindi è davvero molto importante quello che ci doni quindi ti ringrazio ti ringrazio a nome di tutti sono piccoli appuntamenti dove ovvio sono discorsi lunghissimi cioè ovvio che in un'ora e mezza non è è difficile approfondire bene bene l'argomento si cerca di dare un attimo delle direttive e soprattutto mantenere secondo me un livello alto della spiritualità perché secondo me anche nel mondo spirituale c'è tanta confusione tanto addormentamento e non è un giudizio però c'è molta confusione e secondo me è proprio il tempo di portare anche il mondo spirituale ad una praticità spirituale non è solo parlare di amore l'amore è qualcosa di concreto che si porta in atto lo si costruisce lo si materializza non è più il tempo non è più il tempo e se vogliamo vivere bene questi anni a venire è importante trovare l'ancora interiore la pienezza trovare già il paradiso dentro perché c'è io vedo a volte ci sono persone che mi scrivono mi manchi mi manchi è bellissima questa cosa ha un gesto d'amore io per esempio è raro che conosco la mancanza io la mancanza è qualcosa che non è che non conosco tanto ma perché non mi manca nulla ma non di esterno che allora posso avere una lista ma dentro nel momento in cui io ci sono 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 nel compimento del mio piano di incarnazione vedo che la vita si esprime in ogni foglio in ogni cosa siamo completamente immersi in lei non c'è nulla che non sia lei dove siamo legati costantemente io io sento ogni giornata di essere con tantissime persone anche se non ci vediamo non ci sentiamo ma tutti quelli che siamo stasera ad un livello siamo insieme non c'è la mancanza la mancanza la sofferenza è quando ancora aspettiamo di riempire qualcosa dall'esterno è dentro lo so che sono parole retoriche che abbiamo sentito mille volte il destino se posso concludere che cos'è il destino è onorare il nostro essere superiore che è come un grande maestro per me la mia anima è la mia maestra la prima maestra che ho è la mia anima poi ho i maestri ma prima è lei e il nostro destino almeno è diventare lei totalmente nella materia questo è il primo nostro destino e va onorato allora onoriamo la nostra maestra anima che sa perché siamo qui oggi sa perché ci si presenta quella situazione e chiediamole e chiediamole chiediamoci quale caratteristica divina che non è solo amore e compassione a volte è fuoco a volte è sapersi difendere a volte è rispettarci a volte è discernere gli esseri di luce a volte mi offrono delle armature una spada ma cosa è in contraddizione con ciò in cui crediamo che sia luce e amore e no bisogna anche avere quella struttura maschile quella grinta di portare il giusto e di far sì che nessuno lo perturbi questo non vuol dire che uso la spada contro non è questo ma la mia verità la proteggo io per essere diventata oggi quella che sono di spada ne ho dovute tirare fuori perché c'era chi pensava che doveva essere la ballerina chi pensava che doveva essere questo chi pensava che doveva essere quell'altro no io non sono questo quindi non solo essere amore ma essere anche forza sono tempi dove dovremo essere forti non sono tempi facili sono tempi di una bellezza incredibile ma siamo alla resa dei conti le forze dell'anticoscienza stanno tirando fuori le ultime le ultime armi le ultime cartuzze dai sì sì siamo all'ultima delle loro possibilità di confine con il libero arbitrio assolutamente sì quindi saranno sicuramente dei colpi saranno colpi che saranno belli intensi non saranno anni facili però chiediamoci perché siamo così sollecitati perché finalmente in situazioni così assurde allucinanti io ho visto quello che è successo a Roma settimana scorsa sono scene allucinanti però mi sono chiesta che cosa suscita in me questo mi ha tirato fuori una grinta un fuoco da dire mettere in gioco la mia vita per ciò che è giusto è questo che ci viene chiesto è l'imperturbabilità non temere più nulla la vita o l'altro perché affinché abbiamo delle debolezze saremo attaccabili se noi amiamo profondamente il giusto e a qualsiasi costo rimarremo giusti c'è qualcuno che si è fatto crocifiggere perché poteva evitarsela la crucifissione gli è stato proposto ma ha detto no non solo ha fatto grandissime cose quest'essere ma in quell'istante lui è stato l'incarnazione totale del giusto fino a perdere la sua vita questo è questo quanto ancora scegliamo il facile per paura di incarnare il giusto io me lo chiedo tutti i giorni e vi assicuro che di debolezze ne ho ancora tante sì grazie Chantal grazie davvero e direi che anche questi appuntamenti servono per ritrovarci ad esempio questa sera siamo più di mille e questo video poi verrà visto da molte più persone e il ritrovarci no? prima parlavi di ritrovarci di unirci siamo molti più di quello che pensiamo e quindi ritroviamoci uniamoci comunità ora non non dico fisiche ma comunità energetiche certo per me questa sera è un incontro tra amici ora la scusa è il parlare ma per me non è interessante quello che l'interessante non è quello che dico ma è quello che passa tra di noi dietro e sto parlando seriamente Luca non è più il tempo delle chiacchiere dell'imparare intellettualmente qua siamo chiamati ad esserlo le cose si fanno serie ma non che succederà qualcosa di negativo ma proprio siamo sollecitati a dire basta ma innanzitutto tutto quello che succede di assurdo succede dentro di noi le forze dell'ordine che ho visto presentarsi a Roma dove erano dentro di me quelle forze dell'ordine verso la mia voce verso la mia anima che urla ho fame ho bisogno di nutrirmi ho bisogno di vivere di esistere per essere nutrita dove c'erano quelle forze dell'ordine in me che ancora dicevano no anima tu sta sta buona sono più sono più bravo io dove dentro di me ci sono ancora dei pensieri artificiali degli atteggiamenti artificiali come il vaccino che si sostituiscono ad una ad una vibrazione una guarigione naturale dove ancora sono artificiale e dove ancora penso che la salvezza sia in cose esterne dove ancora penso che per essere felice ho bisogno del principe azzurro perfetto del marito che mi guarda come vorrei che mi guardasse della macchina che voglio della casa che voglio dove io ancora offusco il mio sole con le scie chimiche dove c'è sopra di me una cappa che offusca il mio sole queste sono le domande questo è diventare responsabile io me lo chiedo tutti i giorni e le risposte non sono sempre belle perché se sono qui oggi è perché quelle forze dell'ordine quel vaccino quella scia chimica sono dentro di me se no non sarai qui non ci sono eletti non ci sono eletti è il tempo delle scelte e lo dico col cuore è il tempo di scegliere scegliere di essere basta essere l'uno contro l'altro giudicarci sentirci meno sentirci inadeguati è il tempo che tutti noi tiriamo fuori la faccia tiriamo fuori il cuore ognuno dov'è insieme perché io sento che c'è un legame tra noi incredibile anche se non vi vedo non vi conosco ma per me è reale non sto dicendo cose per dire insieme non dirò più altro è proprio così Chantal davvero grazie 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 a nome di tutti bene è stata una serata molto è volata interessante è volata sì un'ora e quaranta io non me ne sono neanche accorto credo che come me mi sembra di aver detto poco spero di aver passato un po' l'idea del destino libero arbitrio assolutamente non preoccuparti anzi hai dato secondo me una visione molto più ampia di quello che che poteva essere l'argomento stesso e quindi ti ringrazio a nome di tutti a tal proposito prima di chiudere la diretta volevo ricordare anche un evento un prossimo evento nella quale ci sarà Chantal adesso l'evento sta scorrendo sotto come banner allora è un evento che si svolgerà online chiaramente con Chantal e Giuseppina Tazioli moderato da Simona Barberi che verrà trasmesso sul canale YouTube All of Life il titolo della serata sarà dialoghi sul trauma oltre la soglia per iscriversi contattate il numero che scorre sotto ovviamente oppure scrivete all'indirizzo e-mail l'indirizzo e-mail è eventi chiocciolacentromosaica punto it quindi sotto potete leggere tutte le informazioni e sarà esattamente il 13 maggio alle ore 21 quindi se volete seguire Chantal che adesso ci spiegherà velocemente l'argomento della serata iscrivetevi e chiamate quei numeri beh anche qui per tornare all'insieme Giuseppina Tazzioli è una carissima amica che stimo tantissimo lei è psicologa psicoterapeuta e fa un lavoro incredibile con i suoi pazienti e secondo me è proprio una psicologa all'avanguardia perché secondo me è proprio quindi ci sposa sposa la psicologia col cuore e con l'anima quindi è è un essere secondo me molto molto evoluto quindi è un onore essere per me con lei in quella sera e a proposito di unione un tempo per esempio penso i sacerdoti i faraoni incarnavano in un solo essere tantissimi ruoli erano re erano padri erano maestri erano guaritori erano sacerdoti si occupavano di politica si occupavano di scienza di medicina di alchimia un solo essere incarnava tutte le scienze presenti oggi sul pianeta come tutto si è frammentato queste scienze si sono sparpagliate e ora rappresentiamo una scienza io è la parte spirituale poi c'è la psicologa c'è il medico eccetera secondo me la medicina del futuro è proprio quella di unire nuovamente tutta la multidimensionalità dell'essere e seguire una persona in una guarigione non solo dal punto di vista medico solo dal punto di vista spirituale ma unirci unire i professionisti e l'insieme delle figure professioniste diventano il famoso faraone o sacerdote quindi sarà un bello scambio secondo me tra una psicologa e non so come definirmi non so come chiamarmi però quello che faccio dal mio punto di vista è parlare proprio del trauma delle ferite quindi per me sarà non so perché avverto questo incontro proprio come l'inizio di di un'unità anche lì proprio riunirsi come specialisti per una nuova guarigione bellissimo quindi se siete interessati iscrivetevi a questa a questa serata e appunto c'è il numero di telefono e l'indirizzo email dove vi verranno date tutte le informazioni poi Chantal volevo anche ricordare a tutti di seguire la pagina Facebook di Essenia Academy poi c'è il sito web esseniaacademy.com e ovviamente anche l'indirizzo email perché perché più o meno una volta al mese tu crei un post o un video dove appunto parli delle energie sottili e quindi ci puoi dare delle informazioni utili secondo me ho pensato a questa mini rubrica in Essenia Academy che è la pagina appunto della formazione della scuola che abbiamo fondato io e Filippo dove si 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 accompagna in una una persona in un in un certo percorso energetico e vedo che c'è molta confusione rispetto a certi argomenti oppure molta paura la magia l'entità gli alieni sono cose che tolgono il fiato e c'è molta astralità rispetto a questi argomenti molta medianità e invece sarebbe bello parlarne in modo pulito e vedere un po' cosa sono realmente queste cose e quindi sono brevi brevi video però secondo me possono dal mio punto di vista con la mia esperienza e con la mia ignoranza o sicuramente però dare qualche chicca per alleggerire un po' anche questa questa spiritualità occulta oscura che toglie il fiato c'è proprio una spiritualità pesante che appesantisce il mondo spirituale e secondo me è un po' il nostro compito andare ad illuminare anche certi argomenti certe idee e pulire purificare anche tutte queste cose quindi una volta al mese e anche in base a tutte le domande che vengono fatte a modo mio cerco di rispondere sì e poi appena ci liberano spero di venire in Italia abbiamo un po' di eventi programmati e quindi finalmente spero che ci si potrà vedere negli occhi a me manca voi vedete me ma io non vedo voi e quindi vediamo dai io sono fiducioso Chantal bravo io sono fiducioso dai ce la mettiamo tutta allora io ringrazio tutti per averci seguito in così tanti questa sera è stata una serata molto bella ringrazio ovviamente ta e Chantal per questa bellissima rubrica e per questa opportunità ovviamente che dai a me di presenziare queste bellissime serate poi tranquillo che ti becco una volta faremo una chiacchierata sul tuo libro molto interessante grazie mi troverai mi troverai pronto va bene buonanotte a tutti un bacio grande ciao grazie ciao